ciao a tutti benvenuti o bentornati sull'angolo di saidori per il consueto video di tutti i giorni delle ore 19 questo è il video come avete letto dal titolo sul nabla sui rossetti liquidi di nabla le dreamy e sui dreamy lip kit perché come sapete quattro delle nuove dreamy sono incluse nei set lip kit quindi quelli anche con la matita e invece sei colorazioni sono nel pack star edition che è quello appunto di natale sono delle nuove colorazioni anzi alcune di queste dreamy che vi farò vedere come sapete sono delle versioni liquide dei rossetti che già esistono quindi dei diva crime procediamo quindi con fare ben dieci indossamenti sulle labbra io spero che vi possano essere utili perché il 23 sarà online in vendita la collezione e anche appunto nei negozi che nei rivenditori che lavranno quindi potrebbe essere utile perché avete visto nel mio video solo gli swatch sulla pelle sulla mano e avete visto che in quasi tutti i casi risultavano essere più scure di come le vedete nella boccetta quindi direi che questa volta è veramente molto molto utile vedere swatch e vedere i rossetti indossati perché rispetto a come li vedete nel tubetto mi sembrano diversi quindi insomma vediamoli vediamoli appunto indossati io mi scuso perché non sto ancora al top infatti oggi ho la febbre la mia faccia il mio occhio lucido credo che lo denunci non non ho fondotinta ragazzi quindi io spero che vi concentrerete vedere il colore sulle labbra la resa sulle labbra perché non mi posso veramente mostrare nella mia forma migliore non che mia forma migliore sia eccezionale però ecco insomma la tela su cui disegno non è il top mi dispiace per questo ma veramente se avessi aspettato di essere completamente guarita saremo stati a pasqua non riesco a uscire fuori da questo raffreddore che si sta anche trasformando nonostante scusate devo tossire nonostante io mi stia curando assolutamente stia al caldo sia coperta però ormai me la so beccata quindi io vi lascio al clip dove indosso tutte le nuove dreamy vi mando un bacio ma ci salutiamo dopo allora iniziamo con silk road che come sapete è l'unico metal delle nuove dreamy matte liquid lipstick mentre tutti gli altri colori sono appunto dei degli opachi questo colore bellissimo viene definito come un rosso amaranto ed è veramente molto bello sulle labbra credo ci sia anche bene così per fortuna col il make up che ho realizzato lo trovo molto fedele al tubetto forse è l'unico che trovo veramente così fedele al tubetto e vi devo dire una cosa che stendendo questo colore ho proprio pensato che a livello di stesura cioè di applicazione sono tra le migliori tra i migliori rossetti liquidi che abbia provato molto facili da stendere perché hanno quella giusta texture non troppo liquida non troppo cremosa che permette veramente di fare un tratto preciso senza errori senza sbordature sapete che ho delle tinte labbra rossetti liquidi che dir si voglia molto preferiti tra tra i brand che vi cito sempre però ecco come stesura sappiate che la mia preferenza va in assoluto ai nabla e questo è appunto silk road bellissimo questo è broadway si broadway che ogni cannella matt stupendo lo trovo bellissimo trovo che sia uno di quei nude che dona anche alle carnagioni con sottotono particolarmente giallo verdastro come il mio molto molto bello noblesse oblige il perfetto equilibrio tra rosso rosa e berry così dice nabla io dico solo che è bellissimo una delle tonalità che mi piace davvero di più trovo che stia veramente bene a tante persone questo lo immagino con tutti i sottotoni essere veramente meraviglioso dona un senso di freschezza al make up lo alleggerisce e quindi adatto anche a trucchi piuttosto pesanti a mio avviso veramente bello 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 come vedete abbastanza differente dal tubetto ma bellissimo che dire particolarmente stupita quando l'ho sbocciato pensavo non mi sarebbe piaciuto sulle labbra perché dice appunto essere un marrone nocciola freddo e avevo paura che il suo essere freddo non mi sarebbe stato bene non si sarebbe diciamo abbinato bene al mio colore di pelle e qui potete veramente vedere il mio colore di pelle perché come vi ho detto non ho fondotinta ho solo un pochino di correttore ma poco e un po di blush però vedete qua assolutamente questo è il mio colore io non ho assolutamente fondotinta è il mio colore ho solo truccato gli occhi e un po di blush per cui io invece direi che se la cava è molto più scuro sulle labbra rispetto che nella nella confezione mi piace quindi anche per questo positivo per quanto riguarda il come mi sta però per quanto riguarda il colore siete voi a vedere se vi piace se può fare al caso vostro questo comunque è ritual qui andiamo su colori questo è zen il nude chiaro che secondo me dovreste vedere applicati su pelli diverse di ragazze più chiare e a cui questi colori stanno sicuramente bene perché mi sembra un bellissimo nude semplicemente magari non adatto a ragazze dei colori troppo mediterranei d'altronde quando si fa una collezione si deve pensare di avere un range di colori un po che stanno magari meglio alle more scure mediterranee un po che stanno meglio alle ragazze ovviamente più chiare quindi io credo che se voi appartenete a questo tipo di carnagione avrete maggiore riscontro per quanto riguarda vedere come sta il colore seguendo i canali di ragazze che non hanno il mio colorito e vi sarà più utile vedere il loro prodotto swatchato e indossato comunque a parte questo è ovviamente un matt si chiama zen è un nude chiaro e così sta sulle mie labbra allora questo era l'effetto che temevo di più il malva taupe pastello scuro un colore davvero molto difficile da portare molto difficile da portare non so quanto mi possa star bene io penso che questo sia uno dei colori più difficili quindi non so se io lo userò perché però insomma così è come sta sulla mia pelle so che invece molte di voi amano follemente questo tipo di colori vedete segnalo che il tubetto è differente dal prodotto applicato sulle labbra è più scuro però secondo me è anche molto bello non è che a me non piaccia a me non piacciono mai visti su di me questi colori perché mi sento un po non a mio agio probabilmente non so se è una mia cosa mi sembra che mi stiano veramente male mi diano un'aria un po da strega comunque se a voi piace io sono contenta se lo swatch vi può essere utile se la swatch sulle labbra insomma non so se si chiama swatch quando è sulle labbra vi è utile e niente questo quindi era anarchy questo è closer quindi siamo arrivati ai lip kit quindi ai kit di matita e di rossetto liquido e questo è closer che appunto una delle colorazioni che si rifà a un rossetto diva crime già esistente che appunto porta lo stesso identico nome è un marroncino rosato dice nabla perfettamente bilanciato quindi un 50 e 50 tra marrone e rosa è carino mi piace non è una delle colorazioni che preferisco tra i diva crime perché c'è tra i nude si lo trovo molto bello però sapete che io amo i nude che abbiano magari anche una un pochino più di un po più scuri quindi non è è tra i nude più belli che ho però forse non ecco tra quelli che magari non mi stanno meglio però è veramente molto molto bello come come nude non so se il mio discorso è chiaro bisogna sempre scendere tra ciò che ci sta bene e ciò che invece ci piace a me molti colori piacciono poi magari indossati non li trovo bellissimi questo lo metto volentieri perché lo trovo molto molto bello come il rossetto però non so se mi sta così bene come altri a volte me ne frego insomma e li uso lo stesso quindi questo è closer pesca bruciato con satinatura rosa cosa è è grace il saten della collezione l'unico saten l'altro vi ricordate la silk road ma era il metal tutti gli altri sono matt e lui è grace è un rossetto una tonalità attesissima perché è molto particolare effettivamente quasi un gold un oro gold scusate un oro rosa un gold rose mi ho mischiato i concetti nella testa quasi un gold rose con un po di pesca appunto un colore davvero molto bello e soprattutto molto particolare che sono certa non avrete assolutamente nella collezione di rossetti molto bello allora che dire un fucsia maranto scuro matt esuberante bellissimo che credo che sia nato per le more con toni caldi non c'è niente da fare c'è posso non amare questo tipo di colori sul mio viso rispetto a altri quando è evidente almeno ditemi la vostra ma non è evidente che questi colori stanno meglio a volte abbiamo voglia di osare sperimentare trovare altri colori però se proprio vogliamo prendere il rossetto che ci sta meglio io direi che per le more questo tipo di shade è veramente stupenda già amavo un rossetto normale il diva crime rossetto liquido che a mio avviso anche molto più pratico da applicare esalta veramente la bellezza di questo colore stupendo il mio preferito della collezione bad boy viola bordeaux scuro molto bello devo dire mi piace tanto come punto di colore opinabile il punto che stia bene o meno a me io ripeto non mi sento super a mio agio molte persone addirittura mi dicono che invece sto molto bene con i rossetti così scuri ma ripeto è sempre una questione di come uno si vede il colore in sé è bellissimo secondo me rimane un po più scuro lo vedete rispetto al alla boccetta però non tantissimo molto bello molto facile nella stesura non mi ha dato problemi di disomogeneità nell'applicazione questo è molto importante perché il bordeaux scuro spessissimo danno questo problema e lui è bad boy ebbene ragazze questo era tutto le ho applicate tutte ce l'ho fatta quindi abbiamo le ho applicate tutte ce l'ho fatta tutte quante le dieci colorazioni delle nuove dream liquid dream matte liquid lipstick di nabla alcune mi piacciono di più certe forse non le sceglierei come vi ho detto e certe mi piacciono tantissimo ecco riesco a farvele vedere tutte quante eccole qua io spero che insomma il video vi sia stato utile vi sia piaciuto vi abbia aiutato a decidere vi abbia fatto passare 5 minuti 10 15 non so quanto è durato in mia compagnia e spero graditi vi ricordo che ogni giorno va online un video alle ore 19 tutte le mattine invece sul sito permettetemi di sponsorizzarlo perché lo sto curando con tanta dedizione va online un articolo sull'angolo di saidori.it diciamo che indicativamente se fate la pausa pranzo a quell'ora lo trovate già online perché lo pubblico tra le 10 le 11 mezzogiorno più o meno comunque per metà mattina più o meno viene pubblicato l'articolo poi resta online tutto il giorno e magari potete prendere l'abitudine nella pausa pranzo di venire a sbirciare che cosa ho scritto e lì mi permette diciamo di spaziare su delle novità che magari non ho da farvi vedere quindi non ci posso fare il video ma di cui ho notizia altrettanto dicasi se vi fa piacere per le idee regalo a prezzi wow che trovate sull'angolo di saidori pagina facebook tutti i giorni e che trovate anche nelle stories sempre tutti i giorni se ve le perdete nelle stories visto che durano solo 24 ore poi le ritrovate tutte quante nella mia pagina facebook perché non le cancello le pubblico lì le ricondivido anche lì e le lascio tutte tutte quante pubblicate insomma non verranno mai cancellate quindi ci potete andare quando volete io vi ringrazio perché l'affetto è sempre crescente sia dalle persone nuove che dalle persone di vecchia data mi state facendo un sacco di complimenti non so se tutti meritati mi lasciate tanti commenti e vi ho già detto che mi scusavo per la settimana precedente perché ho avuto insomma non sono stata bene ho lavorato tutta la settimana tantissime ore al giorno e mi rimanevano veramente poche ore che ho dedicato effettivamente a caricare il video del giorno caricare l'articolo rispondere spot a qualche commento ma già questo pomeriggio ho recuperato più della metà dei commenti della settimana precedente e stasera dopo cena conto di recuperare l'altra metà quindi non lascerò nessuno senza risposta senza un cuoricino senza diciamo una mia presenza sotto il suo commento spero che questo vi faccia piacere non è sempre semplice rispondere a tutti perché siete tantissimi e addirittura sta diventando rispondere ai commenti un lavoro che mi porta via due ore che faccio con molto piacere però capite bene che non sempre 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 magari riesco veramente a ritagliare le due ore al giorno necessarie per rispondere a tutti quindi io penso che lo comprenderete che magari se passate non a farmi una specifica domanda a volte non siete le prime a ricevere risposta perché magari dedico più attenzione ai commenti che mi chiedono qualcosina di più urgente è una domanda specifica urgente sempre fra virgolette non dimentichiamo mai che stiamo parlando di make up di frivolezze che stiamo passando 10 minuti in compagnia così per svagarci e basta ragazze io credo di aver trattenuto fin troppo quest'ultimo insomma di aver dilungato di essermi dilungata fin troppo in quest'ultimo pezzo ma ci tenevo a farmi via i ringraziamenti ci vediamo domani con un nuovo video io intanto cerco di non far cadere tutte le dreamy vi mando un bacio ciao